A poco più di un mese dall'addio a 300 cassonetti la raccolta differenziata nel centro storico di Napoli si attesta al 67%, un risultato che i vertici Asia questa mattina hanno diffuso con soddisfazione, annunciando anche la nuova campagna di comunicazione e le prossime zone nella terza e quinta municipalità servite dal porta a porta. Il positivo è il bilancio ed è importante la campagna perché ci permette di dare un messaggio molto semplice ma anche molto importante per noi. La raccolta differenziata si può fare ovunque, ogni cittadino deve trovare i contenitori stradali più vicini a lui e deve iniziare a utilizzarli, secondo le regole semplici che noi abbiamo deciso di implementare in questa campagna di comunicazione. Dopo il centro storico che a gennaio sarà completato nella zona est di Via Duomo, la raccolta porta a porta è pronta a partire anche nel quartiere San Carlo e si estende al Vomero, a Piazza degli Artisti e al Mercatino di Antignano. In un anno Asia ha registrato un incremento dal 22 al 29% di raccolta differenziata in tutta la città. Penso alle risorse che lo Stato e la Regione devono dare al Comune di Napoli, altrimenti noi quello che stiamo facendo è una specie di miracolo laico e molto si fonda sulla collaborazione della città. Quindi su questo siamo molto soddisfatti, andiamo avanti. L'obiettivo per l'inizio del 2016 deve essere un maggiore investimento nello spazzamento meccanizzato, il completamento delle isole ecologiche e il via libera al primo impianto di compostaggio. Su quest'ultimo punto il ragionamento con la Regione sta andando bene, con il finanziamento dell'Eco Distretto che noi abbiamo proposto, che ci consente di non proseguire quella strada che avevamo scelto nel momento in cui avevamo un muro di no e di nit da parte dell'Aggiunta Caldoro, mentre invece da questo punto di vista si è fatto un salto in avanti. L'Eco Distretto sarà nell'area industriale di Napoli, dove non è solo compostaggio, è proprio un'area di recupero di tutto il materiale rifiuto in generale, realizzazione quindi di beni utilizzabili, creazione del lavoro, come è giusto che sia una città che non è solo turismo, cultura, commercio artigianato, è anche industria. Risanamento dei conti, riscoperta di tutti i luoghi della città, grande collaborazione dei cittadini. C'è uno zoccolo duro che insiste a non dare una mano. Bene, noi a queste persone ci rivolgiamo per dire guardate che i risultati arrivano, dateci una mano e saremo ancora tutti quanti insieme come città di Napoli sempre più bravi. Contenitore bianco per carta e cartone, giallo per plastica e metalli, marrone per l'umido, verde per il vetro ed anche altri. Quanti colori, che arcobaleno. Ora che vogliamo fare di questi bei contenitori? Ci vogliamo guardare? Ci vogliamo fare i selfie vicino a mezzo? O li vogliamo usare come si deve? O i vogliamo regnare? Il tuo. Differenze, differenze, differenze pure tu. Differenze, differenze, differenze pure tu.